Con coach Andrea Nicolai della Fiorentina Basket, coach al di là di questa dura sconfitta di 20 punti contro Bottegone, che cosa è successo oggi durante la partita? Abbiamo innanzitutto complimenti a Bottegone che ha fatto una partita veramente solida, intensa, di grandi percentuali, con i loro giocatori più rappresentativi di Top e Siracov che hanno dimostrato di essere di una categoria superiore, non solo per i punti ma proprio per la loro qualità intrinseca di giocatori di pallacanestro, quindi complimenti a loro. Noi siamo arrivati a scontare troppo questo punto, le assenze importanti, i nostri due giocatori del quintetto Longobardi e Valentini alla fine con squadre buone come Bottegone, perché Bottegone non va vista che in classifica è data di noi. Bottegone va analizzato che con la partita di oggi ha vinto 8 delle ultime 12, quindi è una squadra del nostro livello. E poi è chiaro e evidente l'ampante delle statistiche che ci manca un'alternativa concreta e reale a Poltronieri che quando trova delle giornate storte noi in attacco siamo veramente asfittici, quindi dobbiamo ripartire, capire cosa c'è da fare, capire se c'è da fare degli innesti, sperare di recuperare gli infortunati, metterci a lavorare sulle cose che dobbiamo millorare e sapere che, come ho sempre detto da quando sono arrivato, la strada per raggiungere i playoff è lunga, difficile e tortuosa.